Un vasto traffico di droga tra Gela e Ragusa con diramazioni in altre province siciliane è stato interrotto dai carabinieri. 16 le misure cautelare eseguite all'alba con una ventina di perquisizioni disposte dalla DDA di Caltanissetta. Colpita un'associazione per delinquere dedita allo spaccio di cocaina, ascesi e marijuana. Impiegati oltre 90 carabinieri nelle province di Caltanissetta, Milano, Treviso, Siracusa, Grigento e Ragusa. Nell'indagine denominata boomerang, i militari hanno ricostruito i canali d'ingresso delle sostanze stupefacenti a Gela per un giro di affari stimato in almeno 35.000 euro al mese. Nelle stesse ore la polizia eseguiva l'operazione Reziarius, con cui è stata azzerata una fiorente attività di spaccio di droga in provincia di Enna. Coinvolti anche minori, eseguite decine di misure cautelari ed effettuate altrettante perquisizioni a carico degli indagati. Accertata l'attività di una rete ben ramificata, che tra la fine del 2016 e il primo semestre del 2017 operava per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di ingenti quantitativi di marijuana, ascesi e cocaina. L'indagine si è protratta per circa nove mesi, periodo in cui sono stati effettuati numerosi arresti per tentare di smantellare i vari gruppi di spacciatori e interrompere i canali di approvvigionamento della droga.